Secondo il filosofo greco Epicuro, il bene coincide in ciò che produce piacere, mentre il male in ciò che produce dolore. Il problema è capire che cosa produce piacere. Secondo Epicuro, il piacere nasce dal soddisfare i bisogni, ma questi si distinguono fra bisogni necessari, ad esempio la fame, e bisogni non necessari, ad esempio la fame che si trasforma in voracità. Soddisfare i bisogni non necessari procura un piacere instabile, un piacere che Epicuro definisce dinamico. Solo liberandoci da questi e limitandoci a soddisfare i bisogni naturali necessari, possiamo raggiungere un piacere stabile, e dunque arrivare alla tarassia, ovvero l'assenza di turbamento, che è ciò in cui, secondo Epicuro, consiste il piacere e dunque il bene.